Ragazzi siamo al secondo round, abbiamo aperto 36 bustine Ah, stavolta inizio io dici E inizia Christian Stavolta inizio io, dai Stai aperto 18, siamo a metà Stai carico, finissima Ora so carichissimo Asciutiamo la sudata Ora trovo sicuramente Clayfable di X Giratina di un'altra, addirittura di un'altra espansione Giratina di origine perduta Wow, è bello, quella è proprio bella Vai, Togepi Bonesley Bonesley, molto bello Hai detto tre volte? Dolly Bello sto time pole Ancora di nuovo? Sede della Lega Pokémon Va schifo la Lega Pokémon, vi ho detto Sì Lunatona Non ho manco di giocare Sarina Ah, Sarina finalmente è uscito Bishar Preverse Bishar Preverse La seconda potrebbe essere un ArtRare Una Gold È una bellissima Reverse Oh, bello È bello, Grevar È bello E, 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 Clayton È bella cicciona come piace a me Io penso che di Full Art non ne trovi più A meno che non sei sculatissimo E andiamo Quella ha la dorata, non te l'aspettavi Eh no, infatti nessuno se l'aspettava Io l'avevo vista Ho visto una cosa di... No, è un cazzo Io ho visto una cosa di... Eh, questo si vede la reazione Si vede Bounce with Neuwile Ancora Bello che sono Neuwile E' carino Oh, questo è pure Baffalante Bello, si è uscito a me Baffalante molto carino Molto buco Grabo mine Grabo mine Grabo mine a bolla Grabo mine a magne Ma è che è bello Mi piace Raulet Oh, ah, questo è questo problema Mi piace Nella slitta Toxstreet A me non è riuscito Oh, questa è veramente bella Tuvuletto Mi piace un certo Oh, oh Eh, dammi la forbice Dammi la forbice Quando il pacchetto Non si apre bene E corrono queste Tu hai fatto due Ho trovato Charizard e Tyrannitar Full Art E quindi mo qua che trovi? L'SSR Allucinante Acciaio Acciaio mi ha portato Fortuna Cab Chuu Spoink non è mai uscito Spoink non è mai uscito Spoink non è mai uscito Tainamon Tainamon, ok Surskit A voglia è uscito No, no, Surskit Pepe Pepe è uscito solo reverse Stamfisk Avelo è uscito abbastanza Umbreon Umbreon normale RDE Reverse No È uscito Non è possibile Vai È uscita Vai Vai Ma non hai capito Ma tre cose con le forbici Tutte e tre hanno funzionato Bra Hai visto Ma le pacchette ha fatto apposta Ad essere aperto così E mi sa Cioè Tutte quelle che non si aprono bene Vedi che c'è roba AceQ E Toxtricity Ovviamente Bra Bello Dai Bello Bello Però Preferivo Qualcos'altro E celebriamo Perché così l'avevi trovato pure tu Capi? Vabbè Tipo questa vedi Si è aperta subito E non c'è un cazzo Non c'è nulla Energia base Ah Legend Quello là che dicevi tu Legende 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 E' francese Wiglet Si fanno O Scuvette Fatti a destra Pupitare Oh però è un art nerd Potesse scia te Ma con me Eh io quelle vado trovando Oh togetic Non è me uscito Ah togetic è vero Non è me uscito Ma abbiamo fatto tutte e tre Volcarona Che è reversa No non è reversa Non è normale Però non me ne escono Incredibile Perché? Eh non lo so Io quelle vado trovando Cleffa Ponyard Eh questa è un ulo di merda Alisma Io spero mi esca L'art nerd Di le chonk Poi la metto qua Su schermo Ci sta E' bellissima Dai mille forbici Dai mille forbici Dai mille forbici Ma non è che stai vingendo Ma pure prima E' pure prima E' mo ti faccio vedere Mo ti faccio vedere Ampugio Ampugio Magli stai ampugio Energia Surskift In francese per favore Nouveau Che poi non si chiamano così Poco in francese Grevard Perché c'hanno altri nomi Funtump Bello Natugan Bello Like a rock Provo Ma uguale Lo stesso ordine di prima Dei tui due pacchetti Quando hai trovato Quando ho trovato che cosa Eeeh Oh ma che cazzo Ah boh penso che queste fra Così su Sider Cazzo Che cazzo Ho trovato Hitmore E Grident Yex Veracrystal Questa è molto bella Dai Ma questa veramente è bella Questa è bellina Io ho trovato tre Yex Tre full art E due alternative E due alternative No tre Sei sette otto Si se tutto va bene Forse quattro Che riesco a trovare Glimmeth si inizia bene Molto bene Lima Lima Rock Rock Wiglet Vuktrio Revoluzione Beh hai fatto tutto il bravo Tre fish Quattro fish Questa non è mai uscita Questa non è mai uscita Bellissima Questa è molto bella Questa è male Whiskash E nemmeno questa infatti Questa è uscita La reverse Dai un art rare Bella Bella Questa è molto bella Questa è veramente molto bella L'art rare di Gloom Dai vediamo magari ci sta qualcos'altro Codeback 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 Alisma Codeback niente Togekis Bella Molto bella Finalmente un art rare E' la tua prima art rare Ok questa si è aperta bene Quindi non esce niente Energia Buio Qua è uscita Ninetales Però ti sei preso Secondo me le art rare Più belle Ma guarda che pure i Gloom Non è male Abbiamo buscato le art rare Più belle del set Tutte quante Froakie Narumaka Vulpix Verina Unatone Dartrix Cleffa Reverse Bellossom E Alisma Madonna Alisma Basta Non c'è uscito però Uno Scoville Lane E' l'unico che ci manca Allora Vai con la seconda art rare Vai Rowlet di nuovo Energia Quale Bunnelby Poi questo non è ne uscito Combi Manco questo Penso Smoli Questa non c'è mai uscito Sì è uscito Sì è uscito È uscito questo Arbarouge 300 volte Among Us Oh fosse così facile A trovarlo come nei giochi Un gioco che schifo Among Us Sees me toad Escludendo di ride Lettere di incoraggiamento Reverse Reverse È vero Vediamo Dammi il coraggio Dammi il coraggio Dai con l'artere Palpito Ok Dai che qua c'è qualcosa Un Ix Clay Semplice Palafin No Sì Questa Oh però raga Veramente quattro su quattro Con le forbici Sono uscite quattro cose Ma non vorrei dire Non vorrei dire Dynamo Vero Vulpix Frochi Ma basta Frochi Ho capito che mi volevo uscire Greninja Mannaggia a te Schermori Allora devo mettere Gli esce Greninja Che non c'è Che non esiste Che non esiste Si crede per me da sola Charmander Reverse Lunaton Reverse Todd Scruel Ix Quante Ix sto trovando Ma davanti tra un botto Quante Ix sto trovando Un botto Vogliamo soffiare Nella bocca di Todd Scruel Però è bello dai È un È un Bello bello Mi piace Buio A me è uscito l'artelite di Nintels Asciugare a te Combi Stava a merda sta Diglett Rowlet Bello sto Rowlet Però deve uscire Lecione Reverse Baltoi Stoutland Non è mai uscito No non è mai uscito Stoutland Crocadier Marco Frocadier mi pare Ah questo non è mai uscito Nemmeno Trampa Non è mai uscito Trevenant Bello Reverse Per piacere Fammi levare lo sfizio Dai con l'artelera Barbo Eh a buio A buio Non c'è niente Sta niente Bella Non è alternative Ma è una full art Hai trovato 5 full art Non ti vergogni Oh cazzo Però non me ne ero accorto Pensavo fosse una merda L'ha fanculo Erba con erba Pantamp V per di Paldea Bello Non ce l'avevo Weasel Smoliv Ma l'odore che emanano Ste carte Che poi c'è un Cologni Qui che emana Appunto profumo Non l'ho fatta apposta Ma è lo stesso Di quando vai da bambino E vai in cartolibreria Per la prima volta Di nuovo Il terzo che trovo Fra io vedo qualcosa No c'è niente Liglet Piano 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 Che bella questa carta Fra questo Questo è quando serve Veramente la forbice 9 pure tu 9 9 9 Ma 9 di carte trovate Di punteggio penso Boh vabbè Dopo vediamo alla fine Aperta con la forbice Codice Energia Perché sono sicuro Di esce qualcosa Certamente Fra 4 su 4 con la forbice Tranne Vittorio Magnemite Larvesta Roller Ma basta ti prego Oh non l'abbiamo trovato Penso per la prima Metà niente Ma tutti in questa Seconda metà Esatto Bannel B Bello pure questo Bannel B Ma questo è fatto I nomi è uscito Ho incolone Un espellino Lettera di incoraggiamento Di nuovo Spenditi più Spenditi più Praticamente Reversi di merda Ho incolone Ho incolone Ho incolone Ho incolone E Niente Stavolta non ha funzionato No la forbice Ha perso il potere Ha perso il potere La forbice Vittor Allora Due bustine Non ho trovato niente No E questa è la terza La terza Non c'è senza tre La terza è la volta buona Allora O la terza è la volta buona O non c'è due Senza tre Che energia ci sarà Fuego Vabbè Troppo tardi E brucia la mano Troppo tardi Buizel Bonsuit Magnemide Darbesta Bellissimo perso Darkrix Non c'è un cazzo Non c'è niente Me lo sento Non le vorrei Come si chiama Tess2i X Piano piano Darkrai No 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 Darkrai Darkrai Togekiss o Darkrai Piano 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 Che poi non è chiamato più trick Adesso si chiamava giro Come il nome italiano della mossa Qua Qua fuoco e erba Bellissimo E' elettro E' normale Vabbè giusto Tutti diversi Ok Sciarpeto Peccato non abbia fatto Sciarpeto X Farà Sciarpeto X Bello full art Un alternative Che sta nella barca Bella Tipo un relitto Secondo me è tanta roba Prima Sai quanto potenziale ci sta Espeno Non ce l'hai No non ce l'ho E' più a te Che figo Espeno Grazie Molto gentile Un Flozzel Ok Un Flozzel non è mai uscito Fini No Flozzel non è mai uscito Fini Zenn reverse Vai con l'alternative Non ci scrivo E' vai Bravo ponzo Bravo Ma è fantastico Bravo ponzo Dai vai giù Vai giù un'altra Alfo Ma tre su tre Vai ponzo C'è due tre bustini di verde Bravo ponzo Ma che bella Questa è proprio bella Questa è bella Quante ce ne mancano Una decina più o meno Mamma mia Questa è popera sta finendo E non sono per niente contento E Acciaio Oh Varum Varum Ma senti Se mi esce l'alternative Se pure mi esce questa qua Ma fammela vedere meglio E' bellina proprio Ah veramente caruccio Electric Vai Mr. Electric Provopass Line 1 Schermory Schermory Hooper di Valdea Amico di Mr. Electric Togepi E Clayton Niente Ma aprimene un'altra Alfonso Vai Alfonso Vai Ma la stai prendo E' la tecnica di Alfonso Mi brucia la mano E' perchè c'è anche il Charizard Oh vedi che burro su vivo Se non me la C'è il Charizard Oppure c'è Victini Vabbè non ti Ma ci sta Victini Ugo non ti prometto niente No non mi interessa No però se lo fai Forco 2 4 su 4 Per ora 3 su 3 Hai trovato qualcosa Ah la sacca pallare Bellissimo nome Tadbull Questa è un'altra E' un'emozio Bello Bello Questa è bellissima Non è ancora uscito Bravo Questa è la carta più bella di tutte Secondo me Mi piace Trovamela pure in reverse Mi fai contento Mascherini è neanche uscito Sì Anche questo è uscito E' normale Qua c'è qualcosa qua Bishop Reverso Non è mai uscito Bishop Reverso La me è uscito Lampent Ambient Reverso Piano piano Ma io so che non esce Eh vabbè Volevamo troppo Va bene Slotta Va bene Dai me lo so Mi sento desidue ax Non so perché Va Speriamo Ti taghi in desidue ax Pro che ti è Non è che ti esce Per un greninja ax Passo del Napoli Ti sta prendendo per il culo Salazzola Eh piano piano Arvitar Vai Aundu Aundu Bella Terza alternative art E penso che sia anche l'ultima No Sì frato 3 Bella 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 Bello dai Togliendo ice Eschio ho trovato Toxtrisity Peccato che le holo sono un po' me Cioè valgono più quelle che ho provato nulla Questa è proprio per dire ah prima non ti faccio trovare niente E quindi erba Fa sempre buona fortuna Magremite Eve Toed Skull Vondour Vugtrio Darmanitan Stoutland Spoink Glimmet Allenatore Verina La stessa mia Poteva uscire all'alternative Poteva uscire all'alternative Cosiamo tutte e due Vabbè però dai ci sta Si bella 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 Comunque sto uscendo un botto di carta Sono uscite belle carte Io sinceramente mi sto stancando di spacchettare E' faticoso Comunque sette bustine ci rimangono Charmander Dratini Ci sono altri due pure sto contento Whiskash Kangaskan Questo non ce l'avevo grazie D'olive Toxel Dai dai con l'ex Claydol Madonna basta Claydol A noi Claydol A noi esci solo Claydol a noi Fra dopo noi apriamo una in contemporanea Dai facciamo una Vai aspe Vai in contemporanea Allora energia Io non l'ho tolta Oh Come? Aspettiamo l'energia con me Come è possibile? Vai No fra no Come è possibile? No non ci vedo No ferma Ma hai fatto apposta? Aspett No va bene Varum Madonna Sarebbe stato bellissimo Però minchia le prime due carte tutte uguali Moliv L'Arbiter Clef e Varum Clef e Varum Quello che è uscito prima Sì Vactrio Chandler Kangaskana Il Berretto Che mamma me lo so preso l'ultima volta Che mamma butta qua fra Aspetti Bellosum Testa Witchcat Lillipop era prima di reverse Vai avanti Taccate la prima di reverse Bello Oh bello Non ci è riuscito ancora Vai Pidgey Ah faffanculo E E No da voto no? Che chifo Facciamo questo qua da soli Poi dopo ancora di nuovo insieme Questa è la tecchia di Alfonso Ancora combi Diglett Vai Rauletta basta Baltoi Ma è uscito non è vero Frogadier Ok Drump Non ce l'avevo Non è mai uscito Sharpedo Mannaggia la puttana L'Arvest E piano piano Cryogonal E Sì Zorba Attenzione L'altro pacchetto pazzo del Napoli Energia Elettro Sì è vero questo ma qua è diverso Non ce l'è uscito ancora Tokedemaru Il secondo che ci esce River Oh questo non è mai uscito Sì è mai uscito a me Non me lo ricordo proprio Toto Scrui Questo non è mai uscito Ok Saldo così Lefonsis Dugtrio Wiglet Vicino Lo devi fare Attenzione E infatti vedo che qualcosa c'è Mi devi toccare la spalla Perché non mi hai toccato Non mi hai toccato Sì mi toccavo sempre Vai 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 Però vedi dietro che c'è Però vedi dietro che c'è No c'è qualcosa di bello Sembolo E palafin Stava iniziando a finire franno È un problema È un problema È un problema Inkey Beh se mi esce un'altra cosa Sono contento Di che codi ecco Ma pure full art C'è l'immagine Un bel gold pack sistemato Non ci sono ragazzi su youtube È uscito il charizard gold e il charizard SR Nella stessa bustina Ma come E c'è il video su youtube Ma come è possibile Malamar Pumping All'inizio è proprio uscito tanto Pure plot Poi non l'abbiamo più visto Lilipapa Attenzione Attenzione La ultima la fate voi due insieme Dai Questa si la forbice per forza Ah la faccia del cazzo Questa si Finizen Acqua con acqua Arresta Fungus Lit Lit Ho già visto quel fuoco Espeon Non c'è niente Espeon Flotzel West Southland Reverse Gumshoes Reverse E Palafin Niente Non sto facendo niente più A te un altro pool sicuro c'è Sempre abbinato però L'altra altra R che potrebbe uscire Quella di Lechon Che carina No beh quella è vero che un SR No Scoville e non un chapter Sinistri Tadbulb Numel Togetic Ninthes Eh vabbè Voltigast Ok Qualcuno c'ha la sveglia signore Telefono che svibra Banlepi Forse è il mio Oh dai dai con l'altra Dai con un'area X Ho pensato Infatti pure pensavo fosse l'ultima Che cagata Mi sono fatto proprio la VV sotto Niente Ci mancano gli ultimi quattro signori Gli ultimi quattro Ah no facciamo l'ultimo Io ti assieme Il penultimo lo fanno loro due Steini Cooper di Paldea Però con un'arte diversa Baltoi Carvagna Mascherano Non ti è mai uscito Ah pure questa qua Gumshoes è venuto in reversa Pupitarro Snapullo Reverso La seconda è Sharpedo Mamma mamma Ho visto qualcosa in vero Reverso E Glimmora X Ma è comunque un iX per favore Dai E comunque guadagno Magari competitivamente parlando è un buon Pokémon Non ne ho la più pallida idea Ma penso di sì Che schifo E' l'unica carta che non mi piace che ho trovato Pulpix Funtamp Froakie Darumaka Bronzong Beartic Charmeleon Snubbull Per piacere Dai dai Drampa Bello Drampa adesso Per piacere un iX che da parecchio Mi ha avuto il cazzo da madre PG Yangus Chachi Dad Kak Kangangang Kam No No Laprasas Ballebi Bab Bronzor Oh bello Questo è Bronzor Reverso e tanta roba E Toxtresity Però è stato È stato un bel box Dai Sono stati due bel box E' vero E' vero Lillipop E' stato stancando arrivare fin qui 72 bustine raga ma Chi ve li fa 72 bustine? Tanti Tanta gente Pure di più secondo me Gumshoots Però capi magari gente più famosa Pupitar Stoutland Madonna 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 che bella carta Oh Lovo nevo Lovo nevo Bella Quanto sei bello amico mio Bello Quanto sei bello Devo fare a scambio? Così tu c'hai Glimmore e Glimmore a Zulart Addirittura Glimmore a Zulart Glimmore a Zulart In contemporanea Vai stanno qui La proporrere come Alfonso Erba Ma è sempre buon augurio E senti l'erba come scalda Allora Vai Vai Le chunk Non le mischia Esatto Ungus Uno Nusspass Engravard Cosa faccia? Cosa faccia? Cosa faccia? Litwick Dynamo Togetic Togetic Trevenant Prima reverse Non vedo Ninetills Reverse? No Bellivolt Volticast Amico Questa non è reverse Questa è la prima reverse Si stronzì e appaiono sempre Ma che è? Revavrum o contro? Dragonite Penso che vince proprio Le mani basse a Revavrum Vai diamo un po' E psico a me Acqua Odish Non l'hai fatta? 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 Mascherine Pimple Flozzella Gumshoes Pupitar Umbreon Wiglet Lapras Madonna sei la reverse Vai tocca a te Lapras Sei la reverse Sei la reverse a te Zigzagoon Lapras Lapras Lo volevo E? Ma che buco di buco Che box Bello E te è un box pienissimo Bello 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 Allora ragazzi Questi qua sono i miei pull Abbiamo finito E' finito il box E' finito le bustine Che pianto Piango tanto E' stato veramente una feticaccia Però è stato bello E' stato bello Allora ragazzi Ho trovato Powmot Pidgeot Toad Scruel Glimmora E Grident 5 EX 5 Con una full art Ovvero Verina Un'altra full art Ovvero Vespiquin Pidgeot Ace Q Undur Ninetales E Palafin Quanti punti? Aspetta i punti Vai 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 Allora ripetiamo Un punto 1 per le EX classiche 2 per l'art rare E per le special full art E 3 per il Charizard praticamente Onesto Quindi E quindi Verina Sono 2 4 6 8 Qua facciamo 10 12 12 14 15 16 17 18 19 Vediamo un po' a me che cosa è uscito Maunson 2 E siamo a 3 IEX Tyranitar 4 Bella soddisfazione E desidero IEX E sono 5 Sì 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 Quindi 5 EX 5 Ma come cazzo la contiamo? 2 2 2 Sono 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 Il tuo pokemon preferito? Mamma mia 16 17 18 19 E 20 Hai vinto per un punto Ma è giusto te lo meriti Però Allora se vogliamo fare il paragone Abbiamo trovato lo stesso numero di carte 10 11 12 Quindi una pulla ogni 3 Una pulla ogni 3 Ragazzi quindi Cosa dire Io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto Dovete mettere tanti vi piace Perché ragazzi È una bella spesa Ma noi la volevamo fare per toglierci questo sfizio In realtà è uno sfizio che abbiamo da tanto tempo Visto che non abbiamo mai avuto la possibilità Da piccoli E sì Spero non diventino malattie Perché sennò la malattia è finita Veramente è finita Ragazzi quindi Cosa dire Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto Se questo è stato ragazzi Sapete cosa fare Lascia un tispo Commentate e condividete C'è un altro video Attivate la campanella Per i miei aggiornati Appunto sui feed dei video Seguite i community Per i miei aggiornati sulla programmazione Iscrivetevi Se non lo avete ancora fatto E cosa dire ragazzi Arrivederci Sono bagnatissimo Buonissimo!